benvenuti amici vapers benvenuti canale youtube li svapo io sono mister nino tatà trattino basso di nt in questo video andiamo a vedere la proposta di innokin per andare a svapare di guancia sin da subito ovvero uno starter kit chiamato appunto slide tube composto da un tube elettronico e il nuovissimo atomizzatore slide 24 mm nella parte frontale infatti vediamo raffigurata il colore del dispositivo in questione al lato infatti riporta slide tube e dietro riporta una cosa importante nelle avvertenze dice anzi cita il prodotto è da utilizzare solo con liquidi di alta qualità ragazzi questo cosa significa è un discorso di sicurezza per questo peraltro acquistate solo esclusivamente in shop fidati dove sia la base la nico che vi serve la roma il liquido shot da 20 ml saranno sicuramente controllati e certificati in più riporta praticamente il contenuto della confezione andando ad aprirlo in questo modo qui sulla sinistra avremo il cavetto per la ricarica usb micro usb il libretto di istruzioni la certificazione e la garanzia invece da quest'altro lato molto carino simpatico disposto abbiamo il nostro tubo il nostro slide 24 una seconda resistenza ed un drip tip sostitutivo di colore nero perché inizialmente inizialmente il nostro slide vi viene fornito con un drip tip di colore bianco lo slide 24 rimane con tutte le caratteristiche performanti del suo predecessore ovvero il 22 mm solo ne aumentano il diametro portandola a 24 aumentando nella capienza 4 ml nel kit italiano c'è un dispositivo di sicurezza ovvero qui per andare ad effettuare il refill sarà opportuno piggiare il tastino qui al lato ed andare a premere per andare a scorrere per andare a effettuare lo slide dello sportellino della parte superiore per andare ad effettuare il liquido molto semplice all'interno ci sono due resistenze una da 0 8 e quella da 1 e 2 io andrò a provare quindi questa recensione quella da 0 8 perché la reputo veramente la migliore resistenza della serie zeta coil che innokin ha prodotto per questi tipi di atomizzatori ricordo che sono compatibili per zenith zenith e 24 zenith pro slide e slide 24 quindi le caratteristiche di questa atomizzatore rimangono le stesse da sotto si svita la ghiera dell'aria per andare a tirare fuori la nostra resistenza o per il cambio o per andare a sciacquare il nostro tank quindi basterà inserire dell'acqua diciamo anche di epita agitarlo un pochettino e levarla in questo modo avete pulito il tank vi dico questo perché perché nel kit quindi nella versione italiana il vetrino è messo all'interno dell'atomizzatore quindi non potrà essere sostituito il nostro tubicino amici miei batteria interna da 3000 mAh e vi devo dire che è una cosa veramente veramente notevole perché andando ad alimentare un atomizzatore i cui watt richiederà 12 14 16 watt generalmente la 0 8 richiede anche 17 18 watt però andando andandolo ad alimentare a 16 watt avremo un'autonomia con 3000 mAh di batteria ragazzi miei veramente per tutto il giorno vado a mettere il mio atomizzatore slide 24 ragazzi miei uno è già inizializzato l'altro è quello che vi ho fatto vedere quindi caratteristiche del tubo ultraleggero porta micro porta usb micro usb per la ricarica posta direttamente sul tubo unico pulsante 5 click per la sua attivazione inizierà a lampeggiare il led sul pulsante file indicherà lo stato di carica della batteria quindi passeremo da un verde a un blu fino ad arrivare ad un rosso che ci indicherà praticamente che la batteria si sta scaricando e dovremmo andare a effettuare una nuova ricarica le dimensioni amici miei sono 25 mm il diametro per 138 mm vi ricordo che il tubo è veramente ultraleggero quello che dà più peso a mio avviso è appunto l'atomizzatore gode di tutte le protezioni perché c'è dentro un piccolo circuito e c'è un cut off che amici miei non è una parolaccia ma è un sistema di sicurezza che dopo 10 secondi il dispositivo smette di erogare come funziona rileva la resistenza ed inizia ad erogare i giusti watt che quella resistenza necessita per essere utilizzata molto semplice amici miei quindi uno starter kit veramente molto semplice per chi cerca un prodotto effettivamente facile senza troppe complicazioni quindi senza pulsanti senza led senza il display alza bassa un dispositivo semplicissimo metti l'atomizzatore metti il liquido ed inizi a svapare di guancia amici miei l'unica cosa che vi devo dire avrà un massimo di erogazione fino a 16 watt ecco perché io vi dicevo con la coil da 0 8 che io generalmente l'alimento tra i 17 massimo 18 watt lui taglierà quindi la sua erogazione fino ad un massimo di 16 watt l'erogazione buona lineare pulita con la coil da 0 8 amici miei sto svapando il nuovo white evolution di tabaccheria ovvero il kentucky e vi posso assicurare che questo liquido con quest'atomizzatore con questa resistenza perché sto utilizzando la 0,8 è un prodotto che rilascia un buon sapore non vi sporca assolutamente nulla e vi permetterà di effettuare refill su refill refill su refill perché sia l'atomizzatore e sia il liquido sono progettati per uno più che l'atomizzatore diciamo la resistenza l'atomizzatore nel complesso il kit e lo slide e questo liquido secondo me in combo sono veramente un binomio vincente lo slide alla posta la possibilità di regolare il selettore dell'aria tramite la rondella posto in posta in basso quindi potete parzializzare il vostro sistema di airflow da un singolo da un singolo foro fino ad un massimo di quattro fuori io che sto quindi è un kit mtl ovvero mouth to lunge ovvero tiro di guancia io uno massimo due forellini mi ci trovo veramente molto bene ragazzi miei il kit è veramente molto semplice quindi è inutile che mi divulgo a dare altre informazioni le dimensioni ve l'ho dette è ultra leggero funziona bene e cosa vi devo dire di più l'atomizzatore il nuovo slide 24 mm lasciate un like del video vi è piaciuto se vi è interessato se sono stato quindi di intrattenimento più o meno penso per questi dieci minuti commentate il video sotto youtube e ditemi cosa ne pensate di questo starter kit iscrivetevi al mio canale youtube allisvapo qualora non siete iscritti mi trovate anche su instagram basta fare una ricerca tata e scrivere allisvapo ragazzi miei lasciate un like sulla mia pagina facebook io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video vi invito pertanto a rimanere sul canale per la mia prossima recensione saluto tutti quanti ciao mister nino